bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia quante cose sono successe nelle ultime ore di fortnite a partire dalla prima mattinata di ieri lo abbiamo visto tutti playstation direttamente sul suo store ha pubblicato come al sempre dicono per sbaglio ma non ci credo mica tanto l'immagine il primo teaser ufficiale della copertina di fortnite e quindi come sarà la season 3 ma oggi ragazzi parleremo di alcune cose che sono veramente incredibili e ci dimostrano quanto già sapevamo di questa season in realtà però prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali anche al secondo canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi e non poteva che essere l'immagine della season 3 la prima immagine della stagione 3 quella che è stata pubblicata appunto erroneamente come dicono su playstation store e è chiarissimo quello che stiamo vedendo l'autobus della battaglia che sorvola una distesa infinita di acqua forse non solamente acqua perché come guardate anche voi la a destra c'è un'isoletta molto curiosa un'isoletta che in realtà noi abbiamo già avuto modo di vedere su un vecchio trailer di fortnite e voglio subito iniziare appunto il video di oggi mostrandovi e guardando insieme questo divertentissimo trailer che alcuni di voi sicuramente ricorderanno oh hey 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 oh hey oh 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 davvero divertentissimo come trailer ma nasconde un sacco di cose incredibili e qua lo sanno solo quelli che hanno fatto le news anche un anno fa allora che cos'è questo trailer l'abbiamo già visto l'abbiamo visto in game in realtà era un primo test premo di un anno e mezzo fa abbondante era un primo test che epic games fece in uno studio organizzato dove si voleva testare la mobilità facciale e del corpo delle skin basate su dei veri esseri umani adesso io non andrò mai a trovare il video che è presente sul canale youtube ma mi ricordo che c'era uno assoldato ovviamente da epic games che aveva tutti i sensori in faccia e avevo fatto vedere che mentre lui parlava anche il nostro jonesy sull'isola naufrago parlava in realtà questo oltre ad essere stato un test per quello che abbiamo visto poi in futuro quindi la miglioria delle skin arrivando fino appunto a pochi giorni fa è stato anche sfruttato per creare qualcosa riguardante il trailer ovviamente avrete notato tutti che l'isoletta che ci hanno fatto vedere non è altro che quell'isola là in basso piccolina ma c'è molto molto altro la prima cosa che voglio di cui voglio parlarvi ovviamente è anche la possibilità come si sta dicendo da un bel po' di ore oramai la possibilità che le la pistola la flare praticamente possa arrivare in game quindi la spara razzi ma una cosa veramente incredibile ragazzi se vi ricordate il trailer c'è il momento in cui lui apre questa particolare cassetta di munizioni e porcaccia la miseria guardate i numeri scritti in nero sul bordo lasciamo perdere la prima scritta ma 11 0 6 what a what sarebbe 11 giugno potrebbe essere una coincidenza però dai dai che coincidenza può essere questo vorrebbe dire che loro già sapevano addirittura della vera data di uscita della season 3 del capitolo 2 è veramente uno dei particolari più incredibili di questo trailer come vi anticipavo appunto la flare gun si suppone possa arrivare dico suppone perché non è assolutamente sicura questa cosa ma non vedo perché far vedere una cosa che poi in realtà non arriverà in game ma le curiosità non sono ovviamente finite perché c'è molto molto altro andando avanti molti stanno sostenendo un nuovo è una nuova collaborazione ovviamente vedete sotto di me il famosissimo spongebob perché si parla di spongebob con fortnite diciamo un po come è successo con deadpool una collaborazione che alla fine della fiera non è assolutamente centrata nulla con la storyline di fortnite ma hanno semplicemente fatto un accordo ovviamente con i creatori di deadpool beh si dice che o meglio si sa che l'intro di spongebob quindi la singla iniziale del cartone animato mostra un'isola davvero simile a quella che ci ha mostrato anche il trailer che avete visto prima e l'immagine ufficiale potrebbe essere e ovviamente spongebob è tutto a tema acquatico potrebbe essere semplicemente una coincidenza potrebbe invece essere un nuovo easter eggs che appunto annuncerebbe una collaborazione io non voglio vedere la skin di spongebob su fortnite perché non me la riesco ad immaginare vorrei vedere invece la skin di patrick molto molto interessante quindi potrebbe essere una nuova collaborazione e andiamo avanti che la cosa più incredibile ve la faccio vedere adesso innanzitutto questa immagine ve la ricordate ve l'avevo fatta vedere ormai due o tre settimane fa ed era un'immagine che subito avevo detto la persona che l'ha pubblicata è praticamente un anonimo che sostiene di essere uno degli sviluppatori di ap games e quindi è riuscito di prepotenza o di soppiato a fare una foto allo schermo col cellulare si è rivelata vera ragazzi si è rivelata vera perché l'immagine che state vedendo è mossa comunque questo è il meglio che ho trovato è l'isoletta come vedete c'è un campfire ci sono delle palme le tre palme che abbiamo già visto ma la cosa più importante è la nell'angolino in basso a destra dove c'è scritto sharky shark e poi non si capisce bene cosa c'è scritto tra parentesi questo vorrebbe dire che o lo squalo sparisce o lo squalo viene modificato però io mi rifiuto di pensare che al posto di una struttura enorme come lo squalo arrivi quell'isoletta lì che è grande due per due potrebbe magari semplicemente essere la punta dell'iceberg di quello che potrebbe arrivare sono molto contento che invece questa immagine si è rivelata veritiera ma pronti tenetevi forte perché guardate un po ragazzi ve la ricordate questa immagine dai ce la ricordiamo tutti torniamo in season 9 quindi l'anno scorso ovviamente si prendevano i fort bite ve li ricordate i 100 fort bite uno al giorno per tutta la season che poi appunto completati davano questa immagine quindi john c di nuovo lui che indica l'evento successo appunto al termine della season 9 il cactus verso il dogus ma non dobbiamo assolutamente focusarci sull'evento dobbiamo focusarci su qualcosa di molto più incredibile e ve lo faccio vedere proprio qua era già tutto programmato c'è l'autobus della battaglia che come vedete sorvola un isoletta è incredibile questo continua imperterrito a confermare quanto il team di sviluppo di epic games formato da centinaia di persone sia avanti con gli anni rispetto a quello che noi giocatori viviamo in game è veramente incredibile perché ne abbiamo già parlato ampiamente in questi anni di di leaking in questi anni dove vi ho detto le notizie loro sanno sempre con anticipo quello che devono fare quindi quello che noi abbiamo visto loro hanno l'hanno già finito almeno da 12 mesi è veramente veramente una cosa che ci deve far riflettere insomma ragazzi la season sta per arrivare la stagione 3 è alle porte sabato l'evento l'11 giugno il cambio season io sarò online ovviamente in streaming per viverlo insieme a voi per viverlo in generale perché non vedo l'ora di vedere qualche cambiamento su fortnite vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao